Sono Riccardo Saporiti. Sono Luca Tremolada. Siamo Infodatablog Cast. Parliamo di ambiente. Parliamo di ambiente e di temperature. Parliamo di ambiente, temperature e meteo. In sostanza parliamo di riscaldamento globale. Secondo il quinto rapporto dell'IPCC abbiamo 12 anni per contenere il riscaldamento globale entro un grado e mezzo, altrimenti sarà una catastrofe. Lo European Data Journalism Network ha pubblicato One Degree Warmer. È un'inchiesta realizzata analizzando oltre 100 milioni di dati meteorologici su 500 città in tutto il mondo. Di queste 54 sono in Italia. I numeri coprono gli ultimi 117 anni di storia e ci permettono di fare un raffronto tra il secolo scorso e quello attuale. Una premessa. Caldo e freddo ovviamente sono due concetti relativi. Per comprendere le differenze abbiamo usato un calcolo combinato delle deviazioni standard alla temperatura media registrata tra il 1900 e il 2017. Ciò detto, ci sono delle città nelle quali il principale effetto dell'escaldamento globale consiste nell'aumentare le giornate che sono considerate calde. A Pescara, Ancona e Lecce sono 11 ogni anno. Nel secolo scorso era solamente una. Ci sono realtà in cui gli effetti del cambiamento climatico si esprimono principalmente con una riduzione delle giornate in cui la temperatura media è inferiore a un grado. Bergamo, Milano e Pordenone, per esempio, hanno perso 15 giorni di gelo rispetto al secolo scorso. Giusto per capire meglio, nel capoluogo lombardo il secolo scorso dove vedeva in media 39 giornate gelate all'anno. Dal 2000 ad oggi questa cifra si è ridotta a poco più di 23. Attenzione, non ci sono valori negativi. In nessuna delle 558 città analizzate si è registrata una riduzione delle temperature medie annue. In Italia, come si può osservare dalla mappa, l'aumento delle temperature medie ha riguardato soprattutto le città del nord. Il record spetta a Pavia, dove l'aumento è stato di 1,29 gradi. L'aumento più contenuto ha riguardato Cagliari, dove l'incremento è di soli 0,3 gradi rispetto al secolo scorso. Insomma, fa caldo, anzi, si schiatta dal caldo.